Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale. Io sono Lori ASMR. Come state? Io sto bene? Allora l'altro giorno ho fatto una live, non so chi di voi fosse presente. Comunque ci siamo divertiti molto, secondo me è stato carino fare una chiacchierata con voi, ecco. E oggi sono qua per fare un videozzo dove vi faccio vedere un po' di prodotti di Lush che è la mia vita, che ho acquistato. Ma prima vi vorrei far vedere i disegni di cui vi ho parlato nell'altro video che un ragazzo mi ha gentilmente mandato per mail e li ho fatti stampare. Questa è una simile pagina di fumetto. Qua c'è del mio gatto. Questo sono io. Le mie ciabattine. A, S, M, F. Volume 1. E l'altro disegno che ha intitolato il tuo tongue clicking è questo qua. Cioè guardate che bello. Qua c'è sempre il mio gatto. Questo sono io che appunto faccio del tongue clicking e mi si avvolge tutto intorno. È mega carino. è mega lecciatro. Lo trovo veramente bellissimo. E niente. Dov'è la sua firma? Aspetta. Ah cavolo è un po' tagliata. Qua si vede meglio. Perché ho dovuto tagliarli un po' per riuscire a stamparli. Comunque. Adesso vi faccio vedere l'ordine di Lush. Qua c'è il pacco che è gigante. Perché ho preso tantissime cose. Ho fatto l'ordine insieme ad una mia amica. Quindi ci saranno anche alcuni suoi prodottini qua. Io adoro Lush come brand. Veramente 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 tanto. La prima cosa che trovo nel pacco è questo biglietto che già di per sé è super carino. Fatto in carta riciclata mi sembra. E c'è scritto Ciao Lorenzo. Buon profumato relax. Chiara. Quando ordini qualcosa su Lush ti mandano sempre bene. I bigliettini sono molto carini. Passiamo alla parte divertente. expanding all level della samurai. Fiumezti. Giardina sono molto piressù. Prepariamo. Chiara. 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 Ops, qua c'è il primo prodotto. Questo, cioè guardate che bello, probabilmente non si vede ma è tutto tipo mezzo sbrilluccicoso, tutto dorato. Questo si chiama Yognog ed è un gel doccia, c'è scritto. Aspetta che tolgo lo scotch. C'è scritto, corsa all'oro, trovalo sotto la doccia con questo mix dolce e un po' speziato, birchino come me. È delizioso, con glitter plastic free e tutto luccicoso. Non vedo l'ora di usarlo ed essere pieno di glitter. E avevo sentito il profumo di questo quando ero andato in negozio mille anni fa ed era molto dolce. Infatti è molto molto dolce. Ha proprio un profumo preciso, dolce, caldo e avvolgente ma non riesco a ricordarmi che cos'è. come caramello tipo. Si ha proprio l'odore di caramello buonissimo, non vedo l'ora di usarlo. Avevo finito l'altro gel doccia di Lush e io li amo questi qua. Il prossimo prodotto è questo qua. E questo qua è uno shampoo solido. Siccome avevo finito il mio ho deciso di comprarne uno. E siccome è un prodotto solido c'è scritto qua la descrizione. Ok. 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 Questo si chiama Godiva Lucky Coin. Per chi ho mellucenti e prosperose Questo qua praticamente è al profumo di gelsomino Che è un profumo che a me piace tanto, tanto, tanto Insieme a quello la lavanda è uno dei miei preferiti E quindi lo dovevo prendere per forza Veramente, veramente buono Poi, boh, sono in fissa con gli shampoo soliti Ma in generale con i prodotti solidi penso che inizierò ad acquistarne sempre di più, insomma Li trovo veramente top Lush fa anche molte creme per il viso Tutti i prodotti skin care solidi E tutte queste cose le dico non perché è un video sponsorizzato Ma perché sono stato tipo due ore Due ore sul loro sito Per decidere cosa comprare, ecco Questo è un altro prodotto Che ho acquistato C'è scritto Lush Lush, ecco Qua di fianco Ed è un sapone Questo qua si chiama Snow cake Olio d'oliva idratante E mandorla emolliente Infatti Ha proprio l'odore di mandorla Buonissimo Ho un altro sapone di Lush E l'avevo praticamente finito E quindi assolutamente ne volevo comprare un altro Perché mi piaceva molto l'altro Lasciava super un buon profumo Andiamo avanti Vediamo cos'altro troviamo Vediamo cos'altro troviamo Vediamo questo che cos'è Questo qua è un tonico per il viso Si chiama È tipo quel nome alla francese Acqua Roma Water Acqua di sole si chiama C'è il nome più piccolo sotto Ma non lo vedete Wow Praticamente è un tonico per il viso E dice Una ventata di aria fresca A base di Aspettate bene Rosa E lavanda Quindi potete capire che Amo questo prodotto Per caramare Idratare Ed equilibrare la pelle Dove e quando vuoi Avevo praticamente esaurito il mio tonico Che ne usavo uno di Pixi E quindi ho deciso di Acquistare direttamente Questo qua da Lush Per provare Dato che stavo facendo un ordine Alla prossima Poi questo qua è profumato alla lavanda e alla rosa, quindi, cioè, non vedo proprio l'ora di usare tutti questi prodottini. Era da un po', insomma, che non acquistavo cose, quindi me lo sono concesso. Va bene, mettiamo via l'acqua di sole. E riprendiamo la nostra ricerca. Non è semplice. Non è semplice. Non è semplice. Ecco qua. Ah, questa. Si chiama Revive, non lo so, cime tempestose. Ed è un idratante per capelli, un blend da far girare la testa. Con intense note di gelsomino, burro di avocado ristrutturante e latte di avena allenitivo. Idrata, disciplina e coccola ogni boccolo. Questo qua l'ha preso una mia amica che abbiamo fatto all'ordine insieme per i capelli, insomma, come maschera per i capelli, per idratarli un po'. Perchè gliel'ho consigliato a sua volta una sua amica e le ha detto che è molto molto buono. Quindi nel caso ve lo consiglio. Però se non è una cosa per me. Ciao Lara, nel frattempo ti saluto. Visto che ogni tanto lei guarda i miei video e mi fa da consulenza ogni volta che sono indeciso. Le mando tipo 50 foto di copertina e le chiedo una mano o consigli per i video, insomma. Anche mio fratello è la vera. Comunque torniamo al pacco. Ecco, questo qua è stato il vizio di questo pacco. Si chiama Think Pink, Think Pink, Think Pink. Ed è un po' di spray. E c'è scritto che stile. Se vuoi vedere un mondo in rosa indossa questa sofisticata fragranza piena di lavanda e vaniglia. Sostanzialmente sospetto che sia una specie di profumo che ti spruzzi addosso. Magari non intenso come un profumo vero e proprio, magari un po' più leggerino. Però, avendo delle note di lavanda e vaniglia, cioè io non potevo non prenderlo, ragazzi. Cioè, era scontato lavanda e vaniglia. Come potevo lasciarlo lì? Era proprio, non lo so, cioè non vedo l'ora di spruzzarmelo ed avere questo profumo di lavanda e vaniglia. Poi, carino il packaging, tipo... Pss, 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 pss. Non spruzzo perché c'è questa levetta qua e non voglio romperlo adesso. Pss, 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 pss. E va bene. Allora, ci dovrebbero essere altre due cosine. Allora, questi sono due campioncini che... Wow, sto malissimo. Che bello suono. Comunque, quando fai degli ordini solitamente ti mandano anche un paio di campioncini. Questo si chiama Prince ed è una crema per radersi. Si vede che hanno visto che... non lo so, comunque. E quest'altra si chiama Dirty. Dirty. Come si pronuncia? Dirty. Dirty. Va beh, la smetto. Ed è una crema styling, quindi sarà tipo una cera per stilare i capelli. Devo dire, molto contento. E sono curioso di provarli. ... 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 Ho preso il balsamo labbra nonostante io avessi già quello di Sephora come burro cacao perché ne volevo uno un po' più idratante. E mi sembra che questo sia top. Comunque l'ho comprato questo balsamo perché quello di Sephora è un burro cacao e alla fine le labbra me le idrata però le mie sono veramente 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 secche. E quindi avevo bisogno proprio di un balsamo labbra bello nutriente insomma come dire che mi idratasse proprio a fondo e questo insomma l'ho appena provato e mi sembra che faccia il suo davere. Non vedo l'ora di provare tutte queste. Cosine. Sono veramente 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 curioso. E niente io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia. E spero che gli acquistini che ho fatto da Lush vi siano piaciuti e che questo video vi abbia rilassati. Fatemelo sapere magari nei commenti se non lo so vi è rilassato. E niente ci vediamo domenica. Adesso ricomincio a pubblicare due video a settimana. Ho preso un po' di pausa sapete che ogni tanto lo faccio. E quindi niente ci vediamo domenica alle nove e mezza. Un po' di rilassati. 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 Un buon riposo, un buon relax, ah, ho fatto un nuovo tatuaggio, c'è scritto boh, poi in realtà si legge, diciamo, così, però adesso non mi va di alzarmi, comunque sappiate che c'è scritto boh, me lo sono fatto fare da una mia amica e mi rappresenta al cento per cento questo momentato oggi. E niente, buon riposo ragazzi. Un buon relax.